Avevamo dei giochi, se vuoi da bambini, anche sul set tenevamo un diario. Ce lo passavamo un giorno, un giorno lo tenevo io e il giorno dopo lo teneva lui. E scrivevamo, io ce l'ho ancora questo diario ovviamente, scrivevamo da stupidaggini a poesie. Però è veramente un rapporto da ragazzini. L'aspetto fisico viene dopo, nel suo caso viene dopo. Io non sono mai riuscita.